La posso mettere su YouTube? Ma certo che la puoi mettere. Ragazzi ho Giuseppe Ceterna, quello di Mediterraneo. Ragazzi tanta tanta roba e mi regala una poesia. Mi regala una poesia che è l'ultima poesia di un grande poeta, cantautore, Gian Maria Testa. Pensate, un uomo che se ne sta sa che la sua vita ha un numero terminato di giorni e di tempo e ci lascia una poesia che si intitola La bellezza esiste. Dio sa se ne abbiamo bisogno. Sentitela qui, è breve, piccola, come un volo di un uccellino. Sentitela, La bellezza esiste, dice così. Nel becco giallo e arancio di un merlo, in un fiore qualunque, nell'orizzonte lontano e perduto del mare, la bellezza esiste. È un mistero svelato, un segreto evidente. La vita, la bellezza esiste e non ha paura di niente, nemmeno di noi, la gente. Buon anno ragazzi. Grazie. Viva il Duca 40. Ciao a tutti. Buon viaggio. Grazie, grazie, grazie.